Buon pomeriggio a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. È un grande Yannick Sinner, con un triplo 6-4, elimina Kotov e vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Un Sinner veramente strepitoso, che non lascia nemmeno le briciole al russo. Dopo il match di Madrid contro lo stesso Kotov, dove aveva lasciato un set, ma era un Sinner condizionato dal problema Lanca, quest'oggi sale ancora una volta di livello. Dopo aver eliminato il primo turno Yubanks, al secondo Richard Gasquet, ora con Kotov, un avversario un po' superiore a questi ultimi due appena citati, Yannick dimostra di essere in condizione, di essere a livello mentale e soprattutto a livello tecnico, un tennista di un altro livello e di un altro pianeta. Grandissimo veramente Yannick Sinner. Non ho potuto seguire tutto il match per ovvi motivi lavorativi, però tutte quelle volte che guardavo un Yannick totalmente in controllo, mai in difficoltà, onore e merito comunque a Kotov, che è rimasto in partita e ci ha provato fino all'ultimo, ma Sinner ha veramente dimostrato di essere un campione, perché in tutti i punti delicati, in tutti i momenti dove serviva dare un qualcosina in più, Sinner ha risposto presente, una sola palla break annullata dallo stesso Yannick e 6-4, 6-4, 6-4. Quello che serviva, nessun set per adesso perso dal tennista azzurro, ma che dire, veramente grande Yannick, sei il nostro orgoglio, confermo quello che ho detto qualche video fa, Yannick Sinner per me ha ottime chance di andare a trionfare in questo Roland Garros. Vedremo questa sera Alcaraz contro Korda, vedremo Djokovic domani contro il nostro Musetti, ma è un Sinner che mi convince, ma soprattutto a livello mentale è una spanna sopra gli altri. Tranquillo, si esalta al giusto, mai fuori luogo, è veramente un esempio a 360 gradi. Questo Sinner ci esalta e ci fa veramente venire voglia di vedere già la prossima partita, che penso sarà Domenica, negli ottavi contro il vincente del match tra Hofner e Muté, che tra l'altro è stato sospeso per pioggia ancora prima che iniziasse, quindi questo può andare a vantaggio dello stesso Sinner, che di sicuro non ha bisogno di questi vantaggi, però Yannick, mamma mia, che forte questo ragazzo. Anche perché è stata proprio un'escalation e con Kotov dopo tutte le incertezze, i dubbi, Sinner spazza via tutto e si prende la scena. Sinner è un piacere, Sinner è un atleta totale, Sinner è uno sportivo d'eccezione. Grande Yannick, adesso sotto con il prossimo avversario, Domenica appunto, anche probabilmente sarà Muté, credo che avrà la meglio con Hofner, ma vedremo. Poi probabilmente l'impegno più probante, anche se non va mai sottovalutato nessuno, sarà dai quarti, dove potrà trovare o Urkratz o Dimitrov, impegni e risultati permettendo. Aggiungo anche questo, complimenti, veramente complimenti a Matteo Arnaldi, una partita strepitosa di Arnaldi che elimina in 3-7 Rublev e si regala gli ottavi di finale dell'Orolangaros. L'anno scorso era uscito al terzo turno, Arnaldi, ci sarà anche lui e l'Olimpiadi, eccezionale. Anche lui contro un altro russo, Rublev è sicuramente avversario di caratura superiore rispetto a Kotov, ma un Arnaldi da pelle d'oca, quindi grande Arnaldi che credo che potrà vedersela con Zizi, passa agli ottavi e potrà fare la sua partita. Quindi bene così, due azzurri agli ottavi, ma soprattutto abbiamo Yannick Sinner, futuro numero uno del mondo, più centrato e quadrato che mai. campione agli Australian Open e io veramente ci credo oggi più che mai. Forza Yannick, andiamo a conquistare anche Parigi. Io vi lascio così con questo Sinner, faremo un video magari questa sera per commentare le altre partite, se riprenderanno per commentare la partita di Alcaraz. Se appunto sarà di domenica, come credo, il match di Sinner agli ottavi, impegni permettendo, penso che farò la diretta, quindi vi aspetto tutti e vi invito ad iscrivervi e a lasciare un mi piace. Avanti così andiamo a scrivere la storia insieme a Yannick Sinner. Una buona serata a tutti. Grazie a tutti.